Emessa la sentenza di secondo grado al processo sull'ecosidetto sistema montante, inflitti otto anni all'ex presidente di Confindustria a Sicilia, condannati anche di Simone De Angelis. Assolti Grassi e Ardizzone. Al processo inabbreviato di secondo grado sull'ecosidetto sistema montante, lo scorso 15 gennaio, il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo a conclusione della requisitoria ha chiesto alla Corte d'Appello di Caltanissetta la riduzione della condanna a carico di Antonello Montante da 14 anni di reclusione che gli sono stati inflitti nel primo grado il 10 maggio del 2019 dal giudice Graziella Luparello a 11 anni e 4 mesi. E poi la conferma delle condanne inflitte dal giudice Luparello all'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ed ex capocentro della DIA Gianfranco Ardizzone, 3 anni. E poi al sostituto commissario di polizia della questura di Palermo Marco De Angelis, 4 anni. E poi al questore Andrea Grassi, 1 anno e 4 mesi. E poi 6 anni e 4 mesi di reclusione a carico del responsabile della sicurezza di Confindustria ed ex ispettore della squadra mobile di Palermo Diego Di Simone. Ancora a carico di Ardizzone, il magistrato ha proposto l'applicazione della pena accessoria della degradazione da generale a colonnello delle fiamme gialle. Ai 5 sono contestati a vario titolo i reatti di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e al favoreggiamento. Adesso, dopo 9 ore di Camera di Consiglio, la Corte è preseduta da Andreina Occhipinti, all'Atere Giovanni Battista Tona e Alessandra Giunta, ha condannato Montante a 8 anni di reclusione, ovvero 6 anni nemmeno dei 14 neflitti nel primo grado. E poi ha 5 anni di pena a Diego Di Simone. E poi 3 anni e 6 mesi a Marco De Angelis. È stato assolto il equestore Andrea Grassi, ex funzionario del Servizio Centrale Operativo della Polizia, ritenuto responsabile di una fuga di notizie. Già in primo grado la luparello lo ha assolto dall'imputazione più grave. L'essere parte anche lui della catena delle talpe di Montante. E i difensori di Grassi, gli avvocati Cesare Placani, che Walter Tesauro, commentano. Già la sentenza di primo grado aveva sancito le straneità di Grassi a ogni rapporto opaco nell'ambito del sistema montante. Oggi con la completa assoluzione a Grassi è stato ridato anche l'orgoglio di dichiararsi, come fatto dalle prime battute delle indagini, un uomo dello Stato. È stato assolto da due capi di imputazione il generale Gianfranco Ardizzone e per un altro è scattata la prescrizione. Si conclude così il processo di secondo grado alla sistema montante, ovvero come lo ha definito l'ex presidente della Commissione Antimafia Regionale, Claudio Fava, un governo parallelo che per anni ha occupato militarmente le istituzioni regionali, anche in nome dell'antimafia. Antonello Montante avrebbe allestito una rete di spionaggio non solo per tutelare se stesso, ma anche come cinghia di trasmissione di un vortice di interessi, tra favore agli amici, politici, imprenditori, forze dell'ordine dei servizi segreti, professionisti, magistrati, esponenti delle istituzioni e ricatti, con dossier e vessazioni di vario genere, a danno dei nemici, gli ostacoli, non allineati al sistema. Le parole del sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo usate nel corso della requisitoria. Quella di Montante è stata una catena di montaggio nella quale ognuno aveva il suo ruolo. Tutti sapevano che facevano un favore a Montante e in cambio avevano dei vantaggi. E l'avvocato Annelisa Petitto, legale dell'ex presidente dell'IRSA, Palfonso Cicero, parte civile e parte offesa, commenta La sentenza di condanno emessa dalla Corte d'Appello che ha confermato l'impianto accusatorio della Procura di Caltanissetta che ha condotto le indagini con la preziosa attività della squadra mobile in questo grado di giudizio pienamente sostenuto dalla Procura Generale sancisce l'esistenza di un pericoloso sistema criminale al cui vertice c'è Antonio Calogero Montante che negli anni ha posti in essere reati gravissimi condizionando non solo in Sicilia diversi settori istituzionali dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione. Il cosiddetto sistema montante a cui hanno partecipato diversi soggetti appartenenti anche alle forze dell'ordine anch'essi oggi condannati per associazione a delinquere e altri gravi reati. Ancora e per l'ennesima volta è stato confermato ciò che il mio assistito Alfonso Cicero, testimone chiave dell'inchiesta ha denunciato già dal 2015 alla DDA di Caltanissetta. Cicero come è noto proprio per avere subito gravissime ritorsioni posti in essere a suo danno dal montante e dai suoi sodali è stato ammesso quale parte civile nell'ambito di due altri processi in corso di svolgimento innanzi alla Tribunale di Caltanissetta riguardanti la prima e seconda tranche dell'inchiesta sulle sistema montante. l'ambito organizzativo, logistico dell'ambito di Caltanissetta